Buongiorno a tutti, Rassegna Stampa oggi da casa mia, da Varese, in questo tempo vi abbiamo abituato benissimo con dei bellissimi video realizzati grazie al gruppo comunicazione Movimento 5 Stelle, ragazzi fantastici che saluto e che ringrazio ancora una volta, però stavolta il video sarà molto più artigianale, lo faccio grazie a mio figlio Tommaso che sta utilizzando lo smartphone in modo che ci aiuta a mettere però a fuoco alcune notizie comparsi oggi sui giornali. Cominciamo con Repubblica, vieni Tomi, seguimi, Migranti, cresce il fronte del no, elettori 5 Stelle, ora con Salvini, Salvini convince gli elettori grillini, due su tre dicono no ai migranti, Dilvo Diamanti. Allora uno leggendo questo articolo è indotto a pensare chissà cosa stava succedendo nel Movimento 5 Stelle, se ne stanno andando tutti su Salvini e poi su cosa? Sugli immigrati, sull'immigrazione, mamma mia cosa sta succedendo, Salvini fa la piazza pulita di tutto, Salvini è veramente quello con il vento in poppa, insomma chissà uno cosa sta pensando. Niente, semplicemente sull'immigrazione si segue un trend che Dilvo Diamanti aveva già messo a fuoco, che aveva già descritto. Descritto, guardate, era il 14 settembre 2017 e questo era il suo sondaggio, immigrati cresce la paura, il 46% si sente in pericolo e è dato più alto da 10 anni ed erano già stimati tutti gli elettori, tutte le forze politiche. Quindi Dilvo Diamanti sapeva e sa benissimo che non c'entra l'azione di Salvini, c'entra invece un'altra cosa che è il tema importante di questa società che evidentemente ha una paura o presunta tale rispetto al fenomeno migratorio. Legato alla sicurezza sì, ma non soltanto, è proprio un fenomeno in generale che tocca la sicurezza, tocca il tema del lavoro, tocca la costruzione delle nostre città e di come ormai le periferie siano diventate, grazie a politiche scelerate, siano diventate dei quartieri dormitori. Ecco perché si sente, si avverte il pericolo. Lo scriveva già Ilvo Diamanti rispetto, ripeto, il 14 settembre del 2017, quindi immigrati cresce la paura, il 46% si sente in pericolo e è il dato più alto da 10 anni. Quindi non c'entra assolutamente questa lettura molto politica, molto di parte che fa Repubblica perché evidentemente Repubblica ha un disegno politico. Qual è questo disegno politico? Quello di creare sempre più delle tensioni dentro il Movimento 5 Stelle e dentro il Governo in modo tale che poi possano continuare a raccontare le loro cosine. Sulle cosine vi leggo un passaggio dell'intervista di Riccardo Fraccaro, mi diciamo a porti con il Parlamento perché è un po' quello che noi stiamo vivendo. I giornalisti, il blocco della prescrizione scatterà solo il 1 gennaio 2020, ha vinto la Lega? Giustamente Fraccaro risponde, tanto qualunque cosa faremo diranno che ha vinto la Lega, abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e ha vinto la Lega, faremo l'anticorruzione e ha vinto la Lega, non me ne curo, guardando i fatti non è così. Lo stop alla prescrizione c'è, ha vinto la giustizia e io aggiungo, ha vinto il Ministro Bonafede, ha vinto questo Governo, ha vinto il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché questo era il disegno di Alfonso Bonafede. Cioè, lo spazio a corrotti verrà approvato, entrerà in vigore il 1 gennaio 2019, la parte, perché il salvo a condotti non è soltanto lo stop alla prescrizione, ha dentro il DASPO per i corrotti, ha dentro gli agenti provocatori, insomma ha dentro tante cose molto interessanti, ha anche la parte dello stop alla prescrizione. Che entra in vigore il 1 gennaio 2020? Sì, è vero, ma per un motivo semplice, perché secondo la pianificazione del Ministero della Giustizia si puntella la giustizia nel 2019, come con i soldi, cioè nel 2019 si danno più fondi, più soldi per puntellare e per far funzionare meglio il comparto giustizia. Una volta che tu hai dato più soldi per potenziare anche nel personale di uffici giudiziari, a quel punto nel 2020 sicuramente può andare, può avere effetto lo stop alla prescrizione. Qualcuno dice lo stop alla prescrizione? Non lo fate, l'avete ritardato perché c'è qualcuno da salvare? Impossibile, perché tecnicamente sapete che quella legge, così come la regola delle nuove leggi, entra in vigore da quel momento in avanti e quindi non ha effetto. Quindi non c'è nessun ricatto o tentazione di ricatto. Corriere della Sera, vi voglio far notare due pezzi. Uno è di Federico Fubini, che è la commedia degli equivoci sui conti, lo spettro degli ispettori UE al tesoro. Sono settimane che Federico Fubini continua a raccontare questi strani retroscena di cui soltanto egli ha percezione, evidentemente vivono nella testa di Fubini o nelle persone che Fubini frequenta. Potrei essere malizioso e dire che sono pezzi ispirati da qualcuno. Su questo non lo so, però su un pezzo che scrive come analisi qualche pagina dopo, a pagina 8, Federico Fubini, che di solito conosciamo come uomo dei conti del Corriere della Sera, qui parla di immigrazione e dice che Blangiardo è la partita a scacchi per l'Istat. Quale sarebbe l'analisi? È che la Lega spinge per un presidente dell'Istat che pieghi in qualche modo i dati sul fenomeno migratorio. Il governo e la Lega o il ministro Sabini avrebbero bisogno di dati in qualche modo accomodanti per rinarrare la questione dell'immigrazione. Lui lo dice tranquillamente e ricorda che Blangiardo mesi fa intervenne su Libero fornendo dati a supporto di posizioni sull'immigrazione che piacciono alla Lega. Non è un reato e questo governo non è il primo a preferire tecnici culturalmente vicini. Resta però un principio di fondo a un presidente dell'Istat, non basta essere indipendente, deve anche sembrarlo al di sopra di ogni dubbio. Penso che anche un vice direttore del Corriere della Sera debba essere o apparire al di sopra di ogni dubbio. Evidentemente quando scrive di immigrazione noi non possiamo non ricordare che Federico Fubini è membro della Open Society Foundation di Soros. Quindi quando scrive di immigrazione forse lo fa perché è ispirato dalle logiche politiche di Soros che, lo ricordiamo, è stato un grande speculatore anche sull'Italia. Quindi uno potrebbe poi dire, ah ma come? Allora anche quando commenti i numeri lo fai per conto di Soros. No, noi non diciamo questo, però dobbiamo dire e dobbiamo ricordare che lui è membro della Open Society di Soros. Io scrissi un post poche settimane fa proprio su questo, Fubini di tutta risposta quando ci incontrammo negli studi televisivi di Piazza Pulita alla Sette mi ha negato il saluto. Io con te non parlo, evidentemente gli dà fastidio quando uno ricorda quello che basta scrivere su qualsiasi motore di ricerca, Federico Fubini, Soros o Federico Fubini Open Society Foundation e trovi che è membro di questa cosa. Quindi non capisco perché le regole dell'educazione debbano essere in qualche modo piegate come i numeri rispetto al gradimento che si ha sulle persone. Comunque se Fubini ha voglia di salutarmi me ne faccio tranquillamente una ragione. Sempre il Corriere della Sera, sul Corriere della Sera c'è un'altra fantasticheria di Via Solferino per firma di Francesco Verderami, molto puntuale quando deve raccontare le cose, le voci che riguardano Giorgetti, quasi da indurci a dire ma chi è il grande ispiratore di Francesco Verderami e lascio a voi la risposta. Comunque secondo la ricostruzione di Verderami Di Maio non sarebbe contento della sua squadra di ministri e quindi vorrebbe giocare il Dermi con Salvini cambiando squadra. Anche questa è una questione che rientra dentro la narrazione che i giornali stanno facendo rispetto alle posizioni tra la Lega, il Movimento 5 Stelle e tra Salvini e Di Maio. Ultima vicenda riguarda la Raggi. Tra poco uscirà la sentenza, raccomanderemo con un video. A parte il PM chiede 10 mesi ma poi scivola sul movente. In effetti nel suo articolo Dura l'ex sed l'ex dove Travagno dice caro Movimento vedi di cambiarlo questo regolamento, non è questo il momento per farlo perché potrebbe apparire come un cambio ad personal, però cerca di cambiarlo. Al di là della sua opinione, cosa è importante? Allora, ieri il PM è estratto a cilindro il nuovo momento. La Raggi mentì all'anticorruzione nel dicembre 2016 perché se avesse detto la verità e riconosciuto il ruolo di Marla nella scelta del fratello sapeva che sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati e in quel caso rischiava il posto in base al vecchio codice etico del Movimento 5 Stelle modificato solo nel 2017. E Travagno scrive ma non è vero che rischiasse il posto e nessuno poteva saperlo meglio dalla sindaca e della procura di Roma. Perché effettivamente la prima volta che la Raggi finì indagata fu addirittura nel lulli 2016 appena eletta dopo un articolo di Marco Lille e varie esposte sul cubri del laser e non è. Eppure nessuno quando fu eletta le chiese di dimettersi e che il vecchio codice etico non stabilisse alcun automatismo tra iscrizioni o avvisi di garanzia e dimissioni lo dimostrano almeno altri due casi. In poche parole, quel pezzo di impianto accusatorio del Pubblico Ministero Paolo Iero poggia su una sua convinzione che non è vera, perché non può pensare, ed è strano che poi questo rientri nel pezzo dell'impianto accusatorio, che la Raggi potesse mentire per paura di essere costretta alle dimissioni, perché di fatto nel regolamento non c'era scritto questo. È stata una rassegna stampa un po' lunga, però credo di aver trattato un po' di argomenti, credo anche di avervi dato qualche spunto interessante per commentare. Quindi ciao a tutti, buona giornata, poi commentiamo la sentenza della Raggi.